Non riesco a vedere niente. Come facciamo a sapere se è la direzione giusta? Forse Aoki ha ragione. Non possiamo fare niente. Un attimo. Non lo sentite. È come del solletico dentro le ossa. In un giorno senza giorno, la luce non avrà più luce. Ma i guardiani combatteranno per noi. C'è ancora speranza. Forza, guardiani! È così che si fa, ragazzo mio. Sì! Coraggio, Reef! Fuoco! Loro non mi hanno abbandonata. Siamo ancora qui, Voidus. Con molta più energia di sempre. Siamo pronti a combattere. Sarà veramente entusiasmante. I castelli degli elementi. Come siete riusciti a... Noi non ci arrendiamo, Voidus. Dormiti! Potenza degli elementi! Energia del fuoco! Potere del ghiaccio! Furia del vento! Forza della roccia! Combatti! Kerion! Draetion! Helios! Titano! Un momento, siamo riusciti ad evocare i quattro Lord! Davvero notevole, guardiani. I castelli degli elementi sono simboli di speranza. Quello che avete fatto è stata la scelta giusta. Sciocchi! Come potete allearvi con i guardiani? I gormiani ci hanno traditi! No, Voidus. Tu hai tradito te stesso quando hai respinto la luce. Giuro che vi annienterò! Forza, guardiani! Dateci la vostra energia! No! Vortice folgorante! Ragio polare! Magma blast! Fury quake! Sì! L'abbiamo in pugno! Mister Distruggo Tutto sta per mangiare la polvere! Non cantate vittoria troppo presto! Volete vedere come distruggerò la luce? Ha portato l'Elestar! Preparatevi ad essere annientati! Evocate tutti i gormiti! Quei vittoria! Versi a Cattoli! Volete vedere come distruggerò la e pacinga un'attività! Sono un'attività che i scatrizi all'ai spiege! Non ci sono un'attività che vale! Ma non ti sono un'attività che le bravi a fare! Questa è passare un'attività che i due, Ma non ti sono un'attività che i caldi! Perché il comune che i caldi! Non ti sono un'attività di ottimo di crema! Non ti sono un'attività che di procuro! Ha portato l'estitolo! Erick specialist! Magma Blast! Vortice fulgurante! Raggio polare! Ha! Fury Queen! Non può finire così! Non potete contrastare l'oscurità! Luce di Golm! È finito! Ce l'abbiamo fatta! Sì! 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 Sì, abbiamo ripreso l'Elestar! I Darkan non riusciranno mai più a tornare a Gorn! Sì! Gorniti! Gorniti! Raggiungibili! Chi mi fermerà? The land is back! The land is back! Gorniti! 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 Gorniti!